Ridurre il più possibile i rischi di contagio e garantire la possibilità di votare anche agli elettori positivi al Covid-19 ricoverati o in quarantena domiciliare sono gli obiettivi della circolare 39-2020 diramata a tutti i prefetti in vista del voto del 20-21 settembre per referendum costituzionale elezioni regionali e comunali che individua alcune misure precauzionali per evitare la diffusione del contagio disposizioni normative che vanno ad aggiungersi alle misure già previste dal protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dai ministri dell'interno e della salute la circolare relativamente alle modalità di inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna chiarisce che nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali e amministrative l'elettore dopo essersi recato in cabina aver votato e ripiegato la scheda o le schede deve provvedere a inserirle personalmente nell'urna corrispondente inoltre presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti letto dove siano presenti i reparti Covid-19 devono essere costituite sezioni elettorali con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare quelle che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza per acquisire questo diritto devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti tra il decimo e il quinto giorno prima delle votazioni una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio è un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL che attesti l'esistenza delle condizioni previste